Al primo piano del mercato civico di Carbonia trovi il panificio Sedda Maurizio, quando anche il pane diventa uno sfizio. Oh, troppo buono questo pane, come te, uguale. Assaggia questo. Dici che è buono? Buonissimo. Buonissimo. Però me lo spieghi una cosa. Sì. Ma cosa vuol dire? Pane è fresco, caldo. O è fresco o è caldo? E si dice così. Si dice? Se si dice va bene. Un modo di dire. 1, 2, 3, 4, together we can raise a barn. 1, 2, 3, 4, up, 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 go the fiend.